Parliamo oggi dell'autore che un grande storico tedesco si chiamava Momsen definì il più grande poeta in lingua latina. Parliamo di Tito Lucrezio Caro. Il suo poema, Der erum natura, intitolato nei manoscritti che ce lo tramandano, è in ben sei libri, sono migliaia e migliaia di esametri, argomento arduo, è un uomo del quale in realtà sappiamo pochissimo, tranne quei frammenti di informazione che si possono ricavare dall'opera sua stessa naturalmente e in parte da una breve notizia che si trova in un'opera molto tardiva del IV secolo d.C., lui è vissuto al tempo di Cicerone, quindi nel I secolo a.C. e quest'opera è quella di un padre della Chiesa, Girolamo, che è un grande erudito, ha tradotto la Bibbia, ha fatto un sacco di lavori di carattere esegetico e anche di carattere erudito, appunto, cronografico. Un'opera sua si chiama Kronikon e traduce dal greco, un'opera simile a questa cronologica di Eusebio di Cesarea, il vecchio dilugno, il mezzo secolo, e ci aggiunge delle informazioni sugli autori latini. La notizia che lui ci dà è curiosa, dice questa breve notizia, Titus Lucrezius, poeta nascitur, che sembra una banalità, ci fa sapere che è nato, vuol dire che è nato sotto un certo anno, nel Kronikon si tratta dell'anno 94-93 a.C., poi aggiunge, sempre parlando di quest'uomo, qui Postea, il quale Lucrezio successivamente, a quanto dopo potremmo dire, l'essere nato, Postea, amatorio poculo per una bevanda, per un filtro amoroso, in furorem versus, reso matto, cum aliquot libros, per intervalla insanie con scripsisset, dopo avere composto per intervalla insanie, nei momenti di lucidità, di non follia, aliquot libros, quos postea Cicero e Mendavit, che poi Cicerone pubblicò, bisognerebbe forse tradurre così, propria se Manu Interfecit si suicidò, anno etatis quadragesimo quarto, nel quarantaquattresimo anno di vita. Allora, questa notiziuola che è un po' imbarazzante, perché intanto scientificamente è difficile ammettere che un filtro faccia impazzire, è altrettanto stravagante pensare che lui componesse un'opera così complessa, bene articolata, fondata su ricerche scientifiche, su una letteratura scientifica precedente, per intervalla insanie, è un po' singolare. Poi la notizia del suicidio non è controllabile e molto ci colpisce quella informazione quos postea Cicero e Mendavit, quindi è una notizia che mette subito in relazione Cicerone e Lucrezia. Cicerone, ben sappiamo di lui tutto quello che vorremmo e anche quello che non vorremmo, perché ci sono migliaia, circa un migliaio di lettere sue o a lui indirizzate, quindi la sua vita privata, eccetera, e una di queste lettere rivolta al fratello, databile con precisione nel febbraio dell'anno 54 avanti Cristo, quindi teniamo presente le date, abbiamo detto 94-93 nasce Lucrezio, nell'anno 54, quindi 40 anni dopo, Cicerone scrive al fratello una letterina non molto affettuosa, i due non avevano rapporti eccellenti, il fratello si è allontanato, è stato presso di lui, è andato via, allora lui gli scrive sostanzialmente per dirgli non ho granché da dirti e al termine di questa lettera abbastanza scipita mette invece un'informazione per noi preziosa, ma anche abbastanza angosciante, ve la dico in latino, ma è un latino accessibilissimo, Lucreti poemata ut scribis itasunt multis luminibus ingenii multe tamen artis, allora questo sembra il più semplice dei problemi in realtà crea già subito delle questioni, come avrete capito, la più immediata per così dire, è quando lui scrive queste parole Lucrezio è vivo, se è vissuto 44 anni è nato nel 94-93, qui siamo nel 54 quindi egli è vivo, invece molti moderni sono moltissimi convinti che queste parole siano scritte dopo la morte di Lucrezio e addirittura sarebbero un giudizio complessivo sull'opera di Lucrezio dotata di lumina ingenii e anche di multa ars che Cicerone formulerebbe avendo davanti l'intero oema. Questo forse è il motivo per cui si è creata la notizia per noi non verificabile che addirittura Cicerone stesso lo abbia pubblicato, l'ho reso insomma messo in circolazione, cosa non inverosimile in realtà, ma purtroppo non documentabile in modo sicuro. Invece la prima osservazione da farsi è che in latino poemata, Lucreti poemata, non vuol dire il poema di Lucrezio perché non si è mai visto che il termine si usasse al plurale per indicare una singola opera ancorché composta di sei libri. Invece è stato dimostrato, è inutile ora andare nei dettagli, che si dice poemata di un certo autore per dire i versi, alcuni versi, molti versi di questo autore. Quindi la situazione concreta alla quale fa riferimento questa lettera è probabilmente la seguente, che cioè Lucrezio fa parte della cerchia di Cicerone, di Attico, del fratello di Cicerone, di Cornelio Nepote, un gruppo di persone collegate tra loro per motivi sia politici sia soprattutto culturali. E dinanzi a questa cerchia ha dato lettura, come si usava a fare, a voce alta, di un gruppo diversi, di molti versi, di alcuni versi. E evidentemente il fratello Quinto Cicerone ha scritto qualcosa cui Cicerone replica, perciò dice Ut scribis, come tu dici, come giustamente tu affermi, sono i poemata, i versi di Lucrezio, multis luminibus in geni, quindi dotati di un forte contenuto intellettuale di pensiero, e non di meno tamen anche artisticamente molto validi, multe artis. Tralascio il fatto che molti moderni hanno cominciato a soffrire dicendo ma è strano quel tamen, perché? Allora non multe artis, no? La tentazione di correggere i testi. In realtà si spiega benissimo questa frase di Ennio, si diceva, del grande Ennio, modello anche di Lucrezio e di Virgilio, che aveva Ingenium, ma non altrettanta Ars. Ecco perché qui il giudizio è molto positivo e Lucrezio invece ha sia l'Ingenium che l'Ars. Comunque, la situazione vista in questi termini rende a noi più concreta l'immagine di un personaggio che sta dentro una cerchia di letterati, studiosi, politici, alcuni come Attico profondamente legati all'epicureismo, altri come Cicerone, ostili, sia pure con molte sfumature, all'epicureismo. Perché insisto su questo punto? Poi spiegheremo meglio perché. Insisto perché c'è una fonte della quale non sempre si parla, e cioè la vita di Attico scritta da Cornelio Nepote, Cornelio Nepote ha scritto un repertorio di biografie, alcune soltanto ci sono aggiunte, quella di Attico è importantissima, è molto ampia, e lì fra l'altro dice che di un certo personaggio si può affermare che era un ottimo poeta, anzi il migliore, post Catulli lucretique mortem. Quindi Cornelio Nepote, che è il biografo di Attico, devoto amico sia di Cicerone che di Attico, frequentatore del loro ambiente, forse addirittura biografo di Cicerone, ha l'idea che Lucrezio e Catullo siano i massimi poeti del tempo loro, siano stati probabilmente, perché quando lui scrive entrambi sono morti, entrambi morti abbastanza giovani in realtà. Allora, l'ambiente, abbiamo detto, che ruota intorno a Cicerone, in questo momento, nell'anno 54, è un politico a riposo, diciamo così, si dedica molto alla cultura, alla letteratura, perché con il primo triunvirato, con il patto, diciamo così, fra Pompeo, Crasso e Cesare, la politica romana entra in un tunnel nel quale non c'è spazio per personaggi come Cicerone, a meno che non si allineino con i tre dominatori della scena politica. Nell'anno 55 addirittura sono stati consoli insieme, Crasso e Pompeo, lo erano stati già nell'anno 70, Cesare è stato consolo nel 59, e adesso ha un lunghissimo comando in Gallia. Cicerone si dedica allo studio del pensiero, allo studio della filosofia greca, scrive opere di teoria retorica, c'è una grande fioritura di sue opere in questo periodo, tra le altre opere in cui viene messo in discussione il pensiero di Epicuro. Perché insisto su questo punto? Perché il poema lucreziano, abbiamo detto sei libri, ciascuno di mille, mille e cinquecento versi, quindi un corpus enorme, è tutto quanto dedicato alla non solo esposizione, ma anche esaltazione del pensiero epicureo, cioè della dottrina atomistica già di Democrito, da Epicuro ripresa e arricchita anche con una serie di considerazioni e teorie di carattere etico, opera che noi non abbiamo purtroppo, se non in frammenti, e qualche lettera conservatasi dentro le vite dei filosofi di Diogene, 37 libri per i Fiusios, questo era l'opera maggiore di Epicuro, 37 libri. Ora, Lucrezio dice e ripete nei proemi che si trovano all'inizio di ciascun libro, ogni volta c'è un proemio che o è un elogio di Epicuro, o è un elogio del pensiero di Epicuro, quindi c'è un'intenzione esaltatoria molto forte, dice di calcare le orme, di camminare sulle tracce di Epicuro, si presenta quasi come puro e semplice traduttore, e in realtà ci deve essere anche stato da parte sua un lavoro di traduzione, non necessariamente verbati, una parola per parola, ma dei concetti, tant'è vero che lui poi all'inizio del primo libro dice la difficoltà di creare in latino delle parole nuove che rendano terminologia filosofica greca per la quale la lingua latina non è ancora attrezzata. C'è un caso però in cui noi lo vediamo all'opera, il nostro Lucrezio, come traduttore puro e semplice, direi traduttore poetico, ma traduttore, e cioè il finale del libro sesto, dove viene rievocata per varie centinaia di versi la peste di Atene, la pestilenza che flagellò Atene nel primo anno di guerra, nel 430 avanti Cristo, che noi leggiamo in Tucidide e noi possiamo notare che lui sta traducendo le pagine di Tucidide, mette in esametri la prosa scientifica di Tucidide. Quindi ci possiamo anche chiedere se non abbia fatto per Epicuro la stessa cosa, cioè tradotto ovviamente passando dalla prosa ai versi, pagine del trattato per i Fusers Epicureo. Certo, da 37 libri a 6 libri c'è un taglio drastico, evidente, quindi ha selezionato la parte strettamente fisica, però ha anche l'etica, perché il terzo libro, nel quale ora diremo qualcosa, il terzo libro e sul contrasto alla paura della morte che è uno degli elementi su cui particolarmente insiste, riguarda l'etica di Epicurea. Sappiamo il famoso tetrafarmaco di Epicuro, insistente nel ricordare che la morte non ci riguarda perché quando c'è la morte noi non ci siamo o che il dolore o è durevole ma tollerabile o è forte ma breve e altre formulazioni sintetiche del famoso tetrafarmaco, quindi l'etica. Non possiamo, perché non abbiamo gli elementi, stabilire in che misura lui ha selezionato il materiale contenuto nel Perifusers di Epicureo. Però possiamo notare qualcosa di specifico d'onde l'intitolazione della nostra conversazione odierna Lucrezio è la Repubblica Imperiale Romana. C'è una insistenza da parte di Lucrezio sia nel terzo libro che nel quinto sugli aspetti peggiori, gli aspetti criminali della lotta politica a Roma. con riferimenti che non possono venire da Epicuro. Epicuro è vissuto secoli prima, la sua realtà era o quella di Samo o quella di Atene in periodi in cui un conflitto politico particolarmente acceso non è testimoniato e poi c'è anche da parte di Epicuro come sappiamo una sorta di incitamento a tenersi lontano dalla politica, a non impegnarsi nella politica attico l'amico di Cicerone non ha mai fatto politica di un Epicureo devoto. Invece in Lucrezio c'è questo accanimento forte molto efficace nel descrivere l'aspetto criminale della lotta politica romana in particolare. Delle guerre civili potremmo dire c'è un verso famosissimo del libro terzo il verso 70 dove dice che questi politici in lotta tra loro desiderano fortemente il potere e la ricchezza perché hanno paura della morte cioè la morte talmente li terrorizza che loro la esorcizzano con questo impegno politico aggressivo criminogeno che ha come finalità il dominio il potere ma al tempo stesso la ricchezza e lui dice Rem conflant quindi si impinguano si arricchiscono la res il patrimonio no? Rem conflant sanguine civili con la guerra civile e ora se noi guardiamo alle date da cui siamo partiti no? Quest'uomo nasce nel 94 eh avanti Cristo e quindi da adolescente ha già visto la guerra civile Mariano Sillana no? che ha insanguinato l'Italia e anche la provincia d'Africa a un certo punto dal 88 all'80 nel 78 finalmente Silla abbricava abbandonato la dittatura si è ritirato a vita privata i Mariani al potere hanno fatto scempio degli avversari Silla al potere ha instaurato per la prima volta le proscrizioni cioè le liste di nemici la cui uccisione merita un premio per chi li uccide le famose liste che il secondo triunvirato nell'anno 43 rimetterà in auge in maniera ancora più micidiale noi abbiamo anche delle fonti che ci descrivono la dinamica di queste liste di proscrizione che avevano come bersaglio ovviamente i nemici politici ma soprattutto quelli in alto socialmente ricchi da uccidere ricevere un premio e confiscarne i beni questo è il quadro allucinante della politica romana diciamo nel quinquennio all'incirca fra l'ottantacinque e l'ottanta avanti Cristo quando il nostro uomo è un quattordicenne quindi un adolescente in grado di intendere volere come si suol dire chi lui poi fosse dove si trovasse eccetera questo non lo sappiamo però ha vissuto perché quella fu un'esperienza devastante quel trauma ora se riteniamo che sia vissuto davvero quarantaquattro anni come dice Girolamo in quella notizia che vi ho letto all'inizio e partiamo dal novantaquattro novantatré arriviamo al cinquanta quarantanove cioè arriviamo alla guerra civile cesariana perlomeno all'inizio di essa e quindi l'invasione dell'Italia da parte di Cesare dopo il passaggio Rubicone come dire Lucrezio ha visto probabilmente se questa data è valida anche non solo il precipitare della lotta politica romana in anni tremendi come l'anno cinquantadue quando Pompeo è console senza collega scontri per le strade di Roma l'uccisione di Clodio eccetera ma addirittura gli inizi della guerra civile la lunghissima guerra civile che poi si concluderà praticamente con l'ammazzamento di Cesare nel marzo del quarantaquattro quindi rem conflant sanguine civili quel verso licidiale di Lucrezio nel terzo libro verso settanta rispecchia certamente l'esperienza delle proscrizioni sillane e probabilmente anche il seguito perché il seguito se guardiamo le cose da vicino è stato tutt'altro che lieve abbiamo ricordato prima la creazione del triunvirato Cesare Pompeo Crasso nell'anno sessanta un patto privato peraltro patto privato e quindi tanto più illegale rispetto ai poteri legittimi della Repubblica nell'anno cinquantanove su designazione potremmo dire già fatta a tavolino preventivamente dei consoli dell'anno seguente Cesare diventa console e l'anno del consolato di Cesare cioè l'anno cinquantanove è un anno tremendo di conflitto costante con l'altro console Bibulo il quale addirittura dichiara illegale tutte le decisioni e le leggi che Cesare promulga i conflitti degenerano abbastanza tragicamente e come ho prima ricordato addirittura l'anno cinquantadue è un anno di pre-guerra civile sostanzialmente ma non basta perché come abbiamo ricordato nell'anno cinquantacinque Pompeo e Crasso sono da capo consoli si rinnova si è rinnovato l'anno prima il patto triunvirale Crasso parte nel cinquantaquattro per la guerra contro i parti Cesare ha rinnovato il comando in Gallia guerra lunghissima guerra micidiale con centinaia di migliaia di morti da parte dei galli dei germani la strage e Pompeo è talmente preoccupato che pur avendo il governo della Spagna non va nella sua provincia resta a Roma con il pretesto che si deve occupare dei rifornimenti di grano siamo nell'anno cinquantaquattro insomma se si considerano questi anni della maturità di Lucrezio sono anni di conflitto atroce chiarisco giusto perché la precisione lessicale è necessaria sempre perché ho detto Repubblica Imperiale Romana non è una novità ho adottato un termine che viene ormai usato correntemente perché la distinzione Repubblica Impero che diciamo volgarmente ancora si pratica è un po' imprecisa e inadatta non fa capire la realtà concreta perché l'impero in quanto dominio di un'area mediterranea sempre più grande preesiste alla nascita del Principato di cui Augusto è stato in certo senso l'architetto ma l'ordinamento repubblicano l'ordinamento della Repubblica aristocratica con le sue elezioni annuali dei massimi magistrati eccetera continua a funzionare e quindi la Repubblica è al tempo stesso una libera respubblica per modo di dire che domina un'area grandissima attraverso il sistema delle promagistrature della suddivisione delle aree in province ogni promagistrato governa una provincia per un anno per lo più dopo aver esercitato la sua magistratura l'anno precedente questo meccanismo quindi credo sia chiaro cosa vuol dire Repubblica Imperiale ha accentuato la ferocia della lotta politica per cui è importante non soltanto conquistare le cariche per via elettorale e le elezioni sono truccate in maniera abberrante basti dire che nell'anno 60 si decide che Cesare deve essere console e Cesare viene eletto console delle elezioni pilotate potremmo dire ma non è soltanto importante conquistare le massime cariche e chi raggiunge l'apertura già è molto in alto nella scala sociale è il massimo è il consolato ricordiamo tra parentesi che se in una famiglia in una James c'è o c'è stato un console i discendenti di costui sono nobiles si diventa nobiles grazie alla conquista del consolato Cicerone o Monobus perché è lui il primo nella sua famiglia a diventare console ma accanto alla conquista delle cariche più importanti c'è la seconda tappa il secondo tempo e cioè il governo provinciale il governo provinciale che spesso è una rapina ai danni dei sudditi per rifarsi delle spese elettorali ci si indebita fino alla cima dei capelli per conquistare la pretura anche la edilità volendo poi la pretura poi il consolato e poi ci si rifà in provincia per cui i tipici processi che si celebrano come corollario della vita politica romana repubblicana sono de ambito cioè per corruzione elettorale se è sfacciata questa pratica nel corso della campagna elettorale de repetundis per chi in provincia ha sfacciatamente rapinato con sistemi vessatori i sudditi e quindi alcune realtà provinciali riescono a mettere insieme una denuncia contro il governatore in carica che è appena uscito di carica e quest'uomo viene processato dinanzi a tribunali romani quindi sono le due facce diciamo della repubblica imperiale romana de ambito corruzione elettorale de repetundis rapina in provincia nel caso nostro tutto questo discorso non è generico ma ritorna su lucrezio perché abbiamo detto di lui questa accentuata polemica contro questa realtà politica criminogena direi addirittura un altro passo famoso sempre nel terzo libro verso novecentosettanta e seguenti dove lui dice che il potere di fatto non esiste cioè è un fantasma quindi c'è addirittura un disprezzo per questa ricerca della potenza politica da parte del personale dominante no? le varie grandi e meno grandi famiglie vivono di politica sostanzialmente bene eppure il poema è dedicato già nel nell'inno a venere che si legge all'inizio del primo libro è dedicato a un personaggio curioso un personaggio estremamente discutibile potremmo dire Caio Memmio della Gens Memmia che è un Gens di origine plebea dunque sono nobili ma forse sì nel senso che nella carriera di suoi antenati di questo Memmio c'è qualche pretore quindi hanno raggiunto il penultimo gradino della scala del curso sonorum no? e Memmio medesimo è un signore del quale possiamo dire con qualche sicurezza che è quasi un coetaneo di Lucrezio perché perché sicuramente è stato pretore nell'anno cinquantotto avanti Cristo e quindi al più lo possiamo far nascere nel novantotto cioè quarant'anni ma forse anche meno di quarant'anni per raggiungere la pretura quindi se non è nato nel novantotto sarà nato nel novantacinque Lucrezio nel novantaquattro quindi sono coetanei Cicerone è il più vecchio nato nel 106 avanti Cristo Cesare è nato nel 100 avanti Cristo questi sono degli anni 90 Memmio Memmio sappiamo molto di lui grazie all'epistolario di Cicerone e sappiamo cose tremende a parte il fatto che si è infilato nella famiglia di Silla sposando la figlia Fausta che non era un modello di virtù la sposata quando questa donna aveva 15-16 anni ma come dire ha avuto una sua vita privata turbolenta e notoria nella quale si infilò anche Sallustio in un certo momento ma lo gliene incolse Memmio per parte sua ha avuto altra sua vicenda privata che ha colpito direttamente due potentissimi personaggi i due Lucullo nemici entrambi di Pompeo per cui per un certo tempo Memmio si è appoggiato a Pompeo nemico di Lucullo Pompeo ha celebrato il suo trionfo sull'Asia nell'anno sessantuno in rivalità contro Lucullo che era poi stato il vero vincitore contro Mitridate bene e dopo questa conquista della pretura nell'anno cinquantotto quindi ha fatto la campagna elettorale nell'anno cinquantanove dobbiamo pensare per essere eletto per l'anno seguente cioè durante il consolato di Cesare è chiaro quindi che era persona gradita ai triunghi il bravo Memmio se no non riusciva pretore subito dopo va nel governo provinciale va in Bitinia Bitinia e Ponto quindi sul Mar Nero penisola anatolica che è il nord della penisola anatolica e cosa sappiamo di questo governo provinciale sappiamo il peggio possibile da un personaggio noto di solito per la sua vita amorosa ma importante in realtà per quello che dice della politica contemporanea e cioè Catullo Valerio Catullo in due componimenti suoi il decimo e il ventottesimo del canzoniere come viene chiamato un po' comicamente pensando a Petrarca in questi due componimenti il decimo e il ventottesimo Catullo parla del governo provinciale di Memmio perché? Perché lui giovanotto e il suo amico anche lui poeta Elvio Cinna sono andati al seguito di Memmio in provincia come mai? Ma Memmio aveva molte pretese letterarie poeta erotico oratore bravissimo e quindi amava circondarsi di poeti più o meno suoi coetanei o anche più giovani solo che Catullo testimonia che questo individuo si è arricchito in maniera strepitosa ma nulla è toccato a questi giovani al suo seguito e si lamenta di questo fatto il che anche un po' rispecchia la mentalità dell'intelligenza romana cioè per loro non è grave vessare i provinciali è grave se il promagistrato è stato così egoista da arricchirsi lui soltanto e non concedere nulla al suo seguito che è un seguito spesso abbastanza ampio Memmio si è portato dietro due poeti altri si portano invece dei legati cioè delle persone cui delegare una serie di compiti questo è normale diciamo una sorta una course come una corte come la chiama Catullo medesimo e quindi questo squarcio di formazione che ci arriva da una fonte imprevedibile cioè le poesie abbastanza nevrotiche di Catullo ci aiuta a capire che tipo di promagistrato è stato costui rientrato bravo Memmio come ovvio perché ha già conquistato l'apretura è diventato poi promagistrato quindi proprietore punta al consolato si presenta al consolato nell'anno cinquantaquattro in vista delle del cinquantatré cioè si fanno la campagna elettorale si vota nel cinquantaquattro per entrare in carica il primo gennaio dell'anno seguente durante questa campagna elettorale particolarmente scandalosa eh un processo de ambito colpisce raggiunge Memmio un processo talmente per lui insostenibile che preferisce scapparsene ad Atene lui è molto ricco ad Atene ha terre tra l'altro un terreno sul quale c'era i ruderi della casa di Epicuro che almeno si riteneva che fossero i ruderi della casa di Epicuro e di lui poi sappiamo ben poco abbiamo due lettere di Cicerone indirizzate a lui quando sta ad Atene non sappiamo come si è trovato come si è schierato nella guerra civile cesariana quindi nel 49 ma non è vissuto molto oltre comunque si perdono le sue tracce in sostanza scompare dalla politica romana per il processo micidiale dell'anno 54 e allora in che modo Lucrezio gli si rivolge in questo proegno e gli si rivolge in una maniera imbarazzante per un lettore diciamo così equanime a parte così il tono enfatico per cui al verso 26 per esempio del proemio lo chiama memmiades memmiade nostro ora la prima parola del proemio è eneadum eneadum genetrix venere cui si rivolge perché divinità ispiratrice diciamo così rappresenta la generazione fisica e quindi un poema fisico nasce sotto il segno di una divinità questo ha dato qualche disagio ai moderni hanno detto ma come mai un epicureo pensa che venere che una dea possa intervenire nelle cose umane gli epicurei ritengono il contrario ma queste sono un po' osservazioni scolastiche prive di senso è chiaro che è una metafora una gigantesca metafora che fa ricorso ad una figura quella appunto di venere presentissima nella cultura romana anche politica no? Cesare pretende di discendere la venere tramite Enea Iulo la genza Iulia Cesare era anche lui simpatizzante per l'epicureismo ma ci teneva questa discendenza da venere Pompeo ritenne venere la divinità sua protettrice idem Memmio quindi la mescolanza diciamo così tra culto tradizionale e prassi politica è normale e quindi anche prassi poetica allora Memmiade che Eneadum Memmiade come dire nobilitare al massimo con un termine epico il fatto che quest'uomo appartiene alla gens Memmia ma addirittura nel seguito del proemio che occupa i primi 43 versi del primo libro quando si conclude diciamo la preghiera rivolta a Venere si chiede a Venere di proteggere il poeta cioè Lucrezio Medesimo che sta componendo versi molto impegnativi perché deve pangere diffondere pensieri complessi quelli appunto del filosofia epicurea pensieri che sono non soltanto di carattere diciamo così etico ma tecnicamente scientifici molto analitici nel descrivere fenomeni complicatissimi Venere protegga dunque il poeta e protegga Memmio perché dice Lucrezio concludendo questo suo proemio nel tempo terribile della nostra città patriai tempore iniquo e quindi deve essere un momento politico particolarmente grave se si può definire così eh Memmio che tu Venere hai ornato di ogni bene di ogni grandezza di ogni pregio cosa abbastanza problematica da far corrispondere alla realtà non può desse venire meno comuni saluti alla salute pubblica e allora siamo dinanzi non soltanto alla esaltazione iperbolica servile potremmo dire di un personaggio estremamente discutibile tra l'altro neanche tanto ben visto nell'elite romana se pensiamo al suo andare su e giù di alleanza ora con l'uno ora con l'altro e se pensiamo anche a parte le sue vicende private con le due mogli dei due loculli eccetera ma questo diciamo non ci deve turbare troppo ma anche Cicerone gli parla con fastidio la lettera la prima lettera del tredicesimo libro delle familiari è indirizzata a Memmio e gli chiede con molta circospezione di evitare di distruggere i ruderi della casa di Epicuro ad Atene perché questi scocciatori di Epicurei lo stanno tormentando perché lui intervenga però è un tono molto distaccato insomma quindi Memmio non è un personaggio che l'elite romana gradisca o metta in posizione di vertice alla fine viene travolto addirittura come abbiamo appena detto quindi ci si chiede uno come mai Lucrezio ha questo atteggiamento iperdeferente servile dice Bailey Bailey Cyril Bailey ha scritto un commento a Lucrezio fondamentale all'inizio del novecento e con molto garbo britannico dice che è leggermente servile il tono con cui Lucrezio si rivolge a Memmio leggermente eufemistico perché è fin troppo servile e soprattutto nel presentare un ruolo di lui cruciale nella politica romana che non c'è mai stato lui non può venire meno come dire Roma senza di lui è rovinata e nei guai in questo momento difficile patriai tempore iniquo Memmio è indispensabile per la salvezza comune cosa è ovviamente non credibile allora questo ci pone come dicevo due questioni chi è veramente questo Lucrezio cioè la sua posizione sociale è un cliente certamente clients direi perché questo tono non si spiega in nessun modo molti hanno glissato su questo aspetto alcuni lo hanno affrontato dicendo ma in fondo nella poesia quando c'è un destinatario il tono è sempre deferente e si porta l'esempio di Virgilio la quarta ecroga di Virgilio la quarta ecroga a Pollione per la nascita del figlio ma è tutt'altra cosa in realtà non perché Virgilio abbia un atteggiamento particolarmente austero no è molto deferente verso Pollione addirittura è convinto che Pollione sia un uomo chiave della politica romana nell'anno 40 e si sbaglia in pieno perché non è affatto così siamo al momento del patto di Brindisi Pollione è poco più che uno spettatore però il tono è diverso si esalta il fatto che il figlio questo neonato stia a rappresentare l'inizio di una nuova era di cui poi tutta la teoria medievale della previsione del Cristo dentro la quarta ecroga è tutta un'altra vicenda è anche un altro stile invece nel caso del tono smanceroso ultraservile verso Memmio da parte di Lucrezio si deve riconoscere che la spiegazione unica possibile o la più plausibile perlomeno è quella di un rapporto patronus clients patronus è un leader il quale accetta che altri ruotino intorno a lui in funzione clientelare poeta sì certamente grandi doti allora Memmio si considera egli stesso un poeta si circonda di poeti uno dei quali l'altro è Lucrezio però Lucrezio lui non se lo porta in Bitinia in Bitinia porta gli altri due evidentemente è in una posizione veramente subalterna l'altra domanda è quali sono i fatti concreti ai quali si riferisce con quella circostanziata espressione che tanto ha dato da riflettere patriai tempo reiniquo da un lato e dall'altro lui indispensabile non può deesse saluti venir meno alla comune salvezza e qui si può fare qualche riflessione per esempio molto dipende da quali date noi scegliamo per la vita di quest'uomo la idea tradizionale che quando Cicerone ne parla nel 54 lui è già morto idea sbagliata ma comunque molto diffusa limita molto la possibilità di datare quei riferimenti certo si potrebbe essere un riferimento ma abbastanza difficile da giustificare quando lui nell'anno 59 concorre lui Memmio per l'apretura è l'anno abbastanza incandescente del consolato di Cesare però dire patriai tempo reiniquo forse un po' eccessivo si potrebbe pensare alla campagna elettorale del 54 cioè quando lui punta al consolato ed è un anno indubbiamente di grande pericolo perché c'è stato l'incontro di Lucca il secondo consolato di Pompeo e Crasso e i due diciamo contraenti insieme con Pompeo del triunvirato sono impegnati in due guerre importanti Crasso contro i parti e nell'anno 54 e Cesare nella prosecuzione sempre più sanguinosa della campagna gallica ma basta questo cioè può essere patriai tempo reiniquo potrebbe essere questo e allora l'iperbole consiste nel fatto di sostenere che Memmio in quanto aspira al consolato per l'anno successivo e ora è un candidato in campagna elettorale è impegnatissimo senza di lui qui la comune salvezza della patria sarebbe in pericolo indubbiamente il console è la massima magistratura però non ha nelle due guerre in atto alcun incombenza un imperium domi un imperium un comando nella città nella Repubblica Romana che coincide sostanzialmente dal punto di vista geografico con l'Italia quindi lasciando in sospeso perché non possiamo avere risposte certe se uno si deve orientare nel capire a che cosa si sta riferendo quest'uomo nel suo proemio io tendo a pensare che sia un riferimento alla situazione dell'anno 54 che ho appena descritto e questo è un elemento in più per confermare che quella lettera ciceroniana che contiene quel grande elogio febbraio 54 dei poemata dei versi di Lucrezio è scritta mentre quest'uomo è ancora in vita qual è il de quo intorno a questo gigantesco poema forse l'immagine che ho cercato di tratteggiare legata alla concretezza della lotta politica da Lucrezio condannata e considerata con ostilità a parte il membio qual è l'oggetto centrale intorno alla ricezione di questo poema io direi che in due parole visto che dobbiamo tra un po' porre termine la nostra conversazione in due parole il fenomeno che colpisce è che nessuno a parte quella lettera che vi ho ricordato più volte cita esplicitamente Lucrezio nelle tuscolane Cicerone palesemente polenizza contro il terzo libro lucreziano sul problema del terrore della morte Lucrezio insiste molto sul terrore della morte come follia degna di persone totalmente ignare di questo principio fondamentale della filosofia epicurea le vecchiette hanno paura della morte ma il saggio non può avere paura della morte Cicerone polemizza esplicitamente contro questo libro terzo lucreziano e però non lo nomina mai non dice mai il nome dell'autore che sta discutendo mentre in altra circostanza nel definibus per esempio cita esplicitamente i pensatori il cui pensiero combatte o condivide potremmo dire Virgilio Virgilio ha ripreso si può dire la tecnica versificatoria lucreziana l'esametro lucreziano è la matrice degli esametri virgiliani e soprattutto Virgilio da giovanotto è stato nella cerchia filo epicurea facente capo all'antourage del suocero di Cesare Calpurnio Pisone a un certo punto nelle georgiche allude a lucrezio dicendo Felix qui potuit rerum conoscere causas quindi beato colui che pretende di conoscere causas rerum che è esattamente l'espressione lucreziana vi spiegherò causas rerum quindi c'è un tocco di polemica ma non si dice chi è si dice beato lui che la pensa così prendendo le distanze e si potrebbe continuare certo il poema è stato pubblicato messo in circolazione post mortem molto probabile però questa è una veduta diciamo così moderna modernistica opere letterarie nel mondo arcaico del primo secolo avanti Cristo e anche dopo circolano parzialmente già durante l'elaborazione stessa dell'opera quindi quest'opera circolava era nota tant'è vero che questi autori che ho ricordato Cicerone e Virgilio la conoscono vi fanno allusione ma c'è un problema c'è un problema per il mondo romano il pensiero epicureo non è un pensiero qualunque è un pensiero che mette in crisi la compagine sociale e allora per capire perché nella veduta dominante nel mondo romano si considera quella filosofia come un pericolo credo che si possa conclusivamente fare riferimento ad una pagina famosissima di un autore innamorato della realtà romana da prigioniero di guerra quale è stato e cioè lo storico Polibio il quale nel sesto libro delle sue storie che noi abbiamo in estratti molto ampi il famoso sesto libro dove c'è l'elogio della costituzione mista Roma costituzione perfetta eccetera eccetera dice ciò che presso gli altri popoli è oggetto di biasimo cioè la superstizione religiosa dei sidaimonia ciò che presso gli altri popoli la superstizione è oggetto di biasimo mantiene la coesione dello stato romano questo elemento è stato introdotto in ogni aspetto della vita privata la superstizione è pubblica dei romani con ogni espediente per impressionare l'immaginazione delle masse se fosse possibile dice con ironia nei confronti di Platone in questo caso dice Polipio se fosse possibile formare uno stato di soli uomini saggi cioè la famosa idea platonica della Repubblica della Callipolis no? forse non sarebbe necessario ricorrere a questo mezzo ma data la irragionevolezza le passioni violente la collera delle masse non rimane altro che tenerne a freno col terrore dell'invisibile con altre imposture della stessa sorte dello stesso tipo sciocchi e sconsiderati i moderni che cercano di disperdere queste illusioni salvifiche i moderni che cercano di disperdere le illusioni della superstizione il timore degli dei il timore della morte eccetera sono gli epicurei ecco perché una filosofia guardata con la massima ostilità fermo restando che grandi personaggi come Cesare hanno avuto lo stesso Cassio che poi lo ha ucciso nel marzo del 44 sul piano delle loro convinzioni personali simpatizzavano per l'epicureismo in questo senso potremmo dire il caso di Cesare è un caso limite egli è pontefice massimo che è una carica elettiva quindi è il più alto esponente della religione di stato a Roma pontifex maximus pontefice massimo eletto nell'anno 64 lo è nell'anno 63 durante la congiuria di Catilina lui è pontefice massimo oltre che senatore è epicureo certo per difendere i catilinari addirittura è scogita un argomento cavato dal pensiero di epicuro se li uccidiamo gli facciamo un piacere perché tanto la morte non ci riguarda invece se li teniamo in galera quella sì che è una punizione ma intanto gli salviamo la vita cosa che suscitò l'ironia di suoi contraddittori in senato ecco il paradosso della politica romana rispetto a questo pensiero è che tu puoi avere anche un'inclinazione acuta vigile verso un pensiero liberatore come quello di epicuro però come uomo pubblico addirittura puoi assumere la più alta carica religiosa dello Stato va bene direi che abbiamo concluso